Nasce a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli, il primo distretto della creatività urbana. Tre grandi opere realizzate sulle facciate dei palazzi all'interno del Parco Merola. L'idea è di Inward, osservatorio sulla creatività urbana con sede proprio a Ponticelli, che con il Comune di Napoli ha inteso avviare un progetto di valorizzazione del territorio. I tre murales sono stati realizzati con il sostegno dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, del Rotary Club e di Ceres, ed hanno visto il coinvolgimento del quartiere e della comunità residente. Queste arte, cultura e recupero di spazi degradati, ed è importantissimo qui a Ponticelli, a Napoli, i primi tre. L'obiettivo finale sono otto, messaggi forti di integrazione, di tradizioni, di napoletanità, di apertura mentale, di ragazzi, il gioco, le tradizioni e la musica. La prima opera, Contro l'indifferenza, porta la firma dell'artista Iorit, ed è stata realizzata per la giornata internazionale per i Rom Sinti e Caminanti, dopo due settimane di lavoro precedute da visite ai campi Rom ed incontri con le famiglie del Parco. La seconda, con il suo stile disegnato e favoloso, è di Zed One, tra i migliori street artisti italiani, che ha interpretato la riflessione sull'importanza della qualità del gioco. E sempre dal dialogo con il quartiere, prende vita anche la terza realizzazione dei siciliani rosche e loste sul gioco del calcio. L'opera supera in altezza e metri quadri le altre due, e rappresenta due ragazzini felici durante un'azione di gioco. Sono molto felice del fatto che gli artisti hanno lavorato in piena integrazione, per come mi è stato raccontato, con i bambini del Parco Merolo, che anzi hanno suggerito, hanno indicato, quindi un vero e proprio meticciato popolare e culturale, come le tradizioni della nostra città, che è una città della creatività e dei giovani.